Io mi stavo facendo i fatti miei, stavo girando su YouTube normalmente come ogni giorno e improvvisamente ho incontrato un mignolunco, è stata una cosa terribile, dovete sapere che io avevo solo due neuruni e uno dei due non sapeva se suicidarsi, adesso ne ho tre. Ho dimenticato come si fa a vedere le tette, i culi, quelle cose che stanno su Instagram e su TikTok, quei video che durano pochi secondi adesso non mi interessano più ed è terribile. Ora vado in cerca dei video lunghi, adesso non ne posso fare più o meno, ho iniziato a vedere film impegnati, i video lunghi sono diventati una droga, certo sto cercando di risintossicarmi, ci sto mettendo tutta la mia buona volontà, ma non è facile, state attenti, su YouTube ce ne sono tanti. Ciao vaiù, allora e allora e allora, adesso ci mettiamo con calma perché è arrivato quel momento epocale per me di presentarvi la mia nuova linea di pick up che trovate, troverete a breve su geshamusic.it perché voi sapete, io ho fatto tantissimi video su questo argomento ed è sempre stata una cosa diciamo che è rimasta così, insomma una cosa che noi abbiamo, della quale noi abbiamo parlato come informazione, come conoscenza, però effettivamente diciamo quello che divide una chitarra vintage di quelle che noi vediamo che costano 100 mila, 45 miliardi e mezzo di euro, sono delle differenze che tutti conosciamo, sono delle differenze note, e se capisce per quale motivo le cose si facciano in maniera diversa se ci siamo resi conto che andava benissimo fatta, che le cose andavano benissimo fatte come erano fatte, ok? E non si tratta di cose, di cose come dire fantascientifiche, si tratta semplicemente di sapere come erano fatti quegli strumenti ed erano, diciamo, avevano delle caratteristiche, soprattutto elettroniche, molto differenti da quelle, diciamo, moderne. La cosa fondamentale, voi sapete che io sono convinto, o meglio, penso che la grandissima, diciamo, differenza nel suono, soprattutto negli strumenti elettrici, quelli acustici e nata cosa, però quelli elettrici, la grande differenza la fanno i pick up. Ora perché, se io penso questa cosa, no, è logico che devo pensare che i pick up dell'epoca, a parte l'invecchiamento, però l'invecchiamento è una stronzata, perché l'invecchiamento, il pick up si ammuscia, ci vogliono, però, in ogni caso, il pick up si ammuscia perché i magneti si ammusciano, ma ci vogliono tantissimi anni, quindi, diciamo, è una cosa un pochettino relativa. La verità è che quei set erano fatti diversamente, soprattutto, diciamo, il massimo della cosa lo si nota sulla Stratocaster, però anche i puff, anche i vecchi unbucker erano fatti in maniera diversa, i set erano composti in maniera diversa. Ora, in genere, vi posso dire, ma dopo vedremo tutti i modelli uno per uno, sono modelli di pick up che ho, diciamo, cucinato io, secondo un mio criterio, che dopo vi spiegherò, ma in linea di massima, sai, oggi tu leggi, quando leggi le specifiche di un set di pick up sulle sulle pagine dei costruttori, qualunque siano, c'è una precisione millimetrica nella resistenza del pick up, ti vanno a specificare fino allo 0,001 con la variazione del 5,1,4 per 3%. I pick up dell'epoca erano fatti a cazzo di cane, cioè, nel senso, erano avvolti a mano ed erano molto, molto diversi, ok? prendevi 10 chitarre, c'avevano 10 pick up, non 10, 30 pick up diversi, perché, prendo la Stratocaster, prendo la Stratocaster come esempio, e quindi era proprio così, cioè, erano fatti letteralmente a caso, perché erano fatti a mano e non ci facevano tanta attenzione al, diciamo, al valore finale del pick up tant'è vero che oggi siamo abituati, siamo abituati ad un pick up più forte al ponte e uno più delicato al manico tante volte capitava anche il contrario, capitava che il centrale era più forte succedevano tutte, ok? Però la cosa fondamentale era che tutti i pick up sugli strumenti erano in sostanza tutti uguali il pick up, teoricamente, perché poi non era mai così, variava di poco, però non era mai così il pick up doveva essere 5.5, prendo sempre la Stratocaster per esempio doveva essere 5.5, 5.8, 5.9, 6 e teoricamente dovevano essere tutti e tre, 6, 5.5 quello che era, diciamo 6, ok? poi chiaramente c'erano le variazioni dovute al fatto che erano fatti a mano e quindi potevano essere 6.2, 6.1, 6.5, ok? però non erano messi, diciamo, secondo un criterio il più forte al ponte e il più delicato al manico questo normalmente si fa perché logicamente più vicino al ponte la corda vibra di meno e di conseguenza ha più volume al manico piuttosto che al ponte, ok? ma la cosa fondamentale è che tutti i pick up erano uguali tutti i pick up sugli strumenti non esisteva fare il pick up non esisteva fare il pick up più forte da una parte piuttosto che dall'altra erano tutti uguali ma quello che soprattutto vi parlo della Stratocaster perché è la cosa più evidente quello che era ancora più importante è che il pick up centrale non era avvolto al contrario e non aveva i poli al contrario gli attuali pick up moderni praticamente tutti i set hanno il centrale che hai rispetto al manico e al ponte è avvolto in senso opposto cioè per dirvi il manico è avvolto in senso orario poi il centrale è avvolto in senso anti-orario e i poli, i magneti hanno due poli uno nord e uno sud si chiamano così però sono diversi tra di loro, ok? i magneti sono ribaltati se il pick up al manico ha polarità nord verso le corde il pick up al centrale ha polarità sud questa cosa nei pick up vintage non esisteva erano tutti e tre identici avvolti tutti e tre alla stessa maniera con la stessa polarità e questa è la cosa più importante perché e questa è una cosa che io avevo ipotizzato e avevo raramente sperimentato cioè l'avevo sperimentato ma con dei pick up molto economici non erano belli come questi qua che sto che ho adesso e che sono fatti su mie specifiche questa è la cosa che ti dà la maggiore differenza nel senso che è una sensazione strana che ricorda proprio quegli strumenti vintage quando noi sentiamo qualche qualcuno di quegli strumenti vintage suonare, ok? perché è come se le corde iniziassero a vibrare molto molto più naturalmente lo strumento anche se non è uno strumento particolarmente pregiato inizia a suonare differentemente sono proprio le corde che vibrano diversamente prendono un suono molto più naturale aumenta tantissimo il sustain è una sensazione stranissima che poi mi direte voi quando proverete sicuro mi racconterete anche voi quando proverete i miei set di pick up perché veramente è proprio dal bianco al nero è proprio come se lo strumento prendesse vita è come se lo strumento chiaramente questa è una cosa che tu senti molto di più sulla Stratocaster piuttosto che su una chitarra a doppio humbucker perché le chitarre a doppio humbucker bene o male cioè o meglio bene o male hanno tutte quante diciamo i pick up che non è necessario che siano ribaltati ok? perché già sono humbucker questo si fa sulle Stratocaster perché così nelle posizioni al centro in poche parole hai una sorta di effetto humbucker di cancellazione del rumore che è una strunzata anzi a me dà fastidio perché hai una reazione dello strumento diversa nelle posizioni estreme o al centro passi nelle posizioni intermedie 2 e 4 e c'è la cancellazione del rumore che non hai nelle altre posizioni e per me questa è una cosa che a me onestamente mi dà fastidio preferisco che sia uguale su tutte le posizioni ma al di fuori di questo il discorso è che il campo magnetico che interagisce con la corda è diverso e la corda inizia a vibrare completamente in maniera diversa e lo strumento vi assicuro why you prende vita ok? proprio rinasce lo strumento ed è una cosa così semplice che io non capisco per quale motivo non lo facciano tutti ok? perché è una cosa meravigliosa che veramente ti riporta a quegli strumenti d'epoca che tutti adoriamo e che effettivamente suonano meglio a questo punto con questi miei esperimenti ecco queste queste mie scoperte diciamo con queste mie realizzazioni ecco mi sa di avere trovato veramente uno dei fondamenti diciamo il maggiore colpevole di questa differenza perché vi assicuro e me lo direte voi vi ripeto che questa cosa e tutti i miei set sono fatti così anche se sui set ambagher diciamo ci sono delle cose diverse da considerare e ve lo dirò dopo praticamente quando vi farò vedere tutti i set perché adesso andremo a vedere tutti i set e ve lo spiego per bene ok? passiamo a vedere tutti i set che saranno disponibili a brevissimo in questo momento i pick up sono in viaggio verso di me e li troverete a brevissimo su geshamusic.it tutti i set abbiamo due set per stratocaster due set ambagher e sono in dubbio sul set da telecaster semplicemente perché non ho avuto ancora occasione di provarlo lo proverò già conosco le specifiche e ve le racconterò comunque alla fine di questo video però devo ancora provarlo devo vedere ancora se mi soddisfa in linea di massima dovrebbe però mi do sempre il beneficio del dubbio quindi due set per stratocaster due set ambagher ed un set per telecaster quello che voglio dirvi è che i primi set che comprerete i primi due per stratocaster i primi due per ambagher per l'espollo per sg e i primi due eventualmente per telecaster saranno contrassegnati avranno la mia solita stellina che faccio sulle prime sui primi prodotti nuovi che vengono venduti come segno d'affetto ecco tutti i miei pick up sono firmati da me io compongo i set misuro tutti i pick up compongo i set e decido quali diciamo perché comunque in ogni caso una sorta di piccolo bilanciamento voglio farlo non è stupido non ha senso però uno lo fa per scrupolo di coscienza nel senso che inevitabilmente non avrai mai tre pick up perfettamente uguali se c'è un pelino di differenza vi consiglio di mettere sempre vi consiglio e vi scriverò dietro al pick up di mettere quello più forte al ponte e quello meno forte al manico quindi saranno comunque marcati dietro manico ponte e centrale in modo che potete fare questa cosa non c'è nessunissima differenza però è meglio farlo un'altra cosa che voglio dirvi purtroppo i set me li mandano diciamo con i cavi di colore casuale io assolutamente vi manderò tutti i set con i tre pick up per esempio quelli per strato castra me li manderò con i tre pick up con i cavi dello stesso colore però possono essere bianco e nero giallo e nero blu e nero rosso e nero verde e nero purtroppo me li mandano così e non c'è verso di farli ragionare su questa cosa probabilmente dipende dalla dalle loro disponibilità dei cavi chi lo sa comunque non è che ci interessa più di tanto tra l'altro i cavi sono abbastanza lunghi per cui potete accorciare i cavi dei pick up una volta arrivati arrivato dove li dovete saldare utilizzare il resto del cavo per fare il wiring quindi potete fare tutto il wire dovreste riuscire a farlo quindi fare tutto il wiring con lo stesso cavo e dello stesso colore vi dico vi ho detto qualche cosettina comunque saranno tutti i pick up saranno matchati da me saranno misurati da me firmati da me e vi arriveranno diciamo li compongo io composti da me i set ok passiamo subito a vedere tutti i modelli vi spiego tutti i modelli vado a prendere qualche strumento perché logicamente io li ho montati sui miei strumenti ok i primi set di cui parleremo ovviamente diciamo sono quelli per Stratocaster ora io non ho avuto cioè non ho ancora uno strumento dove montare uno dei due set per adesso ne ho montato uno sul sulla mia classic vibe sixties e vi sto parlando proprio del set sixties per Stratocaster allora inizialmente io avevo avuto diciamo l'idea di dare dei nomi un po' più complicati a questi a questi set avevo pensato a dei nomi un po' più artistici poi mi sono ricreduto e ho deciso di essere più chiaro diciamo nel nel modo di chiamare questi questi pick up per cui visto che fanno il diciamo si rifanno alle specifiche di alcuni pick up precisi vintage ho deciso di chiamarli semplicemente fifties e sixties o cinquantas e sessantas tipo come facciamo che sigaretteno italianissimi e spavaldissimi le centos invece sarebbero le hundreds invece le hundreds invece no centos e qui diciamo più o meno alla stessa maniera quindi su questa chitarra io ho montato i pick up sixties il modello sixties in futuro spero di avere un altro strumento dove poterci montare i fifties qual è la differenza? i sixties fanno hanno diciamo quel suono un pochino più caldo e medioso dei pick up di fine anni sessanta tra il diciamo dei pick up cbs ecco inizio cb proprio quelli Hendrixiani diciamo e quindi hanno questo suono molto adatto al blues anche se non è un suono appilato è sempre un suono di una stradocaster ecco e quindi sono pick up che si rifanno eh dal sessantacinque al sessantanove ok ehm che non erano poi tanto diversi tra di loro ecco diciamo la verità cioè un pick up sessantacinque molto simile a un pick up sessantotto ok ehm come al solito sono tutti e tre uguali sono più o meno mh intorno a 5.5k sono molto variabili comunque in ogni caso e come erano quelli dell'epoca ecco tre single coil con il centrale non avvolto al contrario sono dei pick up grandiosi secondo me per il blues e per tutte le chitarre che ma per una questione estetica più che per una questione filologica tutte quelle che hanno la tastiera in diciamo in palissandra in legno scuro ecco questo tipo di strumento qua i fifties invece hanno un suono leggermente più sbilanciato sulle ehm sulle medio alte hanno un suono un pelino più ehm graffiante nonostante rimangano sempre pick up da strato caster sono più o meno sempre intorno ai 5.5k e si rifanno ad un suono che inizio anni 50 55 56 il set sixties a polarità sud mentre il set fifties a polarità nord ehm e sulla diciamo quelle quello fifties ha un ehm diciamo è più adatto alle strato caster con per esempio che hanno la tastiera in acera non perché faccia un sempre ve lo dico non perché faccia un una differenza effettiva nel suono però insomma come cosa filologica diciamo quelli che secondo me sono più ehm meno sconvolgenti come suono sono più fedeli ecco sotto un certo punto di vista al suono strato caster al quale noi siamo ehm abituati classicamente sono quelli fifties quelli la sixties sono un pochettino più particolari nonostante siano sempre dei pick up da strato caster a tutti gli effetti e c'è c'è nessuno di una strato caster e questi sono quelli c'è i pick up da strato caster sono quelli che mi hanno veramente spinto a fare questo questo lavoro e vi assicuro che in particolare sulla strato caster si sente tantissimo il fatto di non avere il centrale al contrario è una cosa pazzesca considerate che questa non è una chitarra particolarmente pregiata ma completamente preso vita con con questo set che ci ho montato e vi ripeto me lo direte voi quando l'ho lo proverete perché a parole è veramente veramente difficile spiegarlo ma è una cosa che ho sempre voluto fare sempre voluto fare dei pick up fatti in questo modo entrambi i set sono al nico 5 perché all'epoca già si usava l'al nico 5 diciamo nel 55 era proprio quando si passava dall'al nico 3 all'al nico 5 allora io l'al nico 3 non ne chiamo sta troppo simpatico perché è quello più delicato di tutti e quindi ho deciso di non utilizzarlo utilizzando un al nico 2 in alternativa l'al nico 2 quello più forte sarei andato completamente fuori strada come un come timbrica ecco e quindi ho deciso di mantenermi sull'al nico 5 perché la cosa diciamo più standard della cosa che il suono che ci abbiamo in mente tutti è quello più utilizzato perché più silenzioso rispetto all'al nico all'al nico 2 l'al nico 2 è quello più rumoroso di tutti perché era quello che si utilizzava effettivamente quando diciamo nel 55 e dal 55 in poi è quello che si è sempre utilizzato e in più vi dico la verità l'al nico 2 e l'al nico 3 a parte alcune diciamo marche diverse da queste diciamo alcune fabbriche ecco diverse da queste che sto adottando io sono più facili da trovare cioè o meglio sono più difficili da trovare ecco anche nell'ottica di un prezzo nel senso che questi pick up non costano cioè non sono pick up che costano una fucilata di soldi e questo mi è permesso in due modi diciamo semplificando le cose quindi utilizzando un al nico 5 piuttosto che un al nico 3 o 2 e non guadagnandoci una fucilata di soldi insomma ecco perché in sostanza questo è come già vi ho detto i cavi di questi pick up arrivano a caso cioè arrivano di colori casuali e mi sarà difficilissimo per questo motivo però in un set avrete sempre i tre pick up con i cavi dello stesso colore quindi cercherò farò questa cosa perché mi rendo conto che è fastidiosissimo averli diciamo a caso sono cavi telati quindi sono vintage e ci hanno chiaramente sono sono i pick up sono tutti quanti cerati che se no insomma sarebbe un casino e i cavi stessi come quelli vintage sono cerati quindi hanno una ceratura bella proprio vintage al bacio pick up per stradocaster fifties e sixties sulla stradocaster e là dove tu i due i tre pick up uguali senti veramente tantissimo la differenza belli 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 i fifties sono quelli un po più taglienti sono un po più violenti come 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 timbrica mentre invece quelli sixties sono leggermente più caldi leggermente più sulle medie frequenze e ti fanno quel suono che tu ti metti al manico e suoni in crance proprio che tu dici ah questa è una stradocaster ok abbiamo poi due modelli di humbucker sulla mia Les Paul ho deciso di montare i pick up fifties puff perché li ho pensati per questo tipo di chitarra anche se io li ho montati così ma potete anche decidere di fare diversamente non succede niente anzi è una cosa che vi che vi incoraggio a fare quindi questo qui c'è il set fifties che fa diciamo il verso ai primi puff e quindi hanno una una resistenza di 7.5k in entrambe le posizioni questo il fatto che i due pick up siano uguali sulla sui pick up a doppio sulle chitarre a doppia mbucker fa una cosa strana nel senso che inevitabilmente il manico suona più forte del ponte anche se in realtà questo non è tanto vero nel senso che in realtà non suona tanto più forte quanto il fatto che cambia il timbro del 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 pick up perché suona molto più caldo molto più pieno e quindi il suono del pick up che diciamo è più incisivo rispetto a quello del ponte ora dice vabbè allora fanno schifo perché suonano suona più forte il manico del ponte non fanno schifo perché pensate al 57 58 ok col manico ci si faceva il ci si faceva il jazz ok e quindi al manico tu hai quel suono bello pieno molto compresso che per esempio su una semi acustica ma anche su una lespol ti fa fare quelle cose là al centro proprio perché non suona più forte il manico ma è diverso il tipo di timbro hai semplicemente il manico un pochino schiarito un pochino rinfrescato dal dal pick up al ponte che è più squillante al ponte invece tu hai un suono quasi da single coil ok e quindi ti permette di fare quelle ritmiche tipo tipo telecaster insomma perché capite dove stiamo stiamo nel diciamo nel periodo che la lespol diciamo ecco si suonavano bene o male quelle cose là ti fa fare il country ti fa fare il surf rock e quindi c'hai un suono più sottile molto più simile ad un single coil ok poi viene il discorso overdrive perché chiaramente una chitarra del genere tu la vuoi suonare in overdrive e il fatto che il ponte il pick up al ponte sta letteralmente in mezzo tra il suono di un hamburger e un single coil in particolare il pick up al ponte ma anche al manico dipende da come lo vuoi come lo gestisci ecco ci sono i columi eh il ponte il ponte se sai gestire l'amplificatore se gestisci bene l'amplificatore ti permette di stare letteralmente sul filo del crunch e quindi ti vengono quelli di quei suoni bellissimi eh per cui tu incasi forte con con il plettro e hai più overdrive ok è un suono particolare è difficile da spiegare però quando lo senti quando lo suoni capisci che è un suono che sta a un livello superiore capisci che è un suono che è quello il suono che dovresti avere è un suono bellissimo allo stesso allo stesso modo il fatto che non sia che non sia particolarmente forte il ponte questi sono due pick up da 7.5k normalmente su un set moderno normale tu passi da 7,5 vi dico 7,5 a 13 quindi quando sei in overdrive succede tantissime volte con gli humbucker normali moderni quelli non come questi che sono vintage succede che si incasina tutto il suono perché appena alzi un po' con l'overdrive è troppo ok con questi che sono più delicati tu puoi alzare l'overdrive e arrivare anche a molta cattiveria però il suono non si incasina perché non entri sparato nell'amplificatore con un output esagerato e quindi rimangono ed è questa una delle cose diciamo uno dei miei obiettivi un obiettivo che volevo avere era quello di avere un humbucker che non si incasinasse completamente ok che non fosse quelle cose che tu tiri un accordo e non si capisce niente perché sono fortissime chiaramente un discorso è se tu devi fare il metalcore e quindi ti serve il pick up che esce forte proprio Spavaldo a 20k 18k insomma quella è un'altra cosa però per un humbucker tradizionale generico diciamo generico vintage ecco generico tradizionale nel senso un humbucker anche all purpose cioè un po' come dire suono classico non sa ne incasinare questo è il discorso e questo era era proprio il primo primissimo mio obiettivo questo tipo di set così fatto io vi assicuro che è una cosa pazzesca perché passi dal calore bellissimo per per fare il blues per fare diciamo i pulitoni sai le cose non voglio degli accompagnamenti perché forse un po' troppo pieno per gli accompagnamenti però per fare quelle cose belle che tu quei quei fraseggi in clean caldi quegli arpeggioni belli quel blues diciamo appena appena sul filo del del crunch tipo John Lee Uger che li coso chiaramente c'è tantissima gente che suona anche il manico in overdrive io in genere non lo faccio però il fatto che sono comunque delicati comunque hanno non hanno un'uscita esagerata ti permette di fare anche di suonare anche al manico in overdrive senza che si incasina tutto il suono diciamoci la verità quindi questi qua diciamo tutti i miei set humbucker almeno per adesso poi non so se ne farò altri più moderni escono con il con il cavo quello standard vintage gibson telato con la calza diciamo a due poli con la calza esterna la schermatura esterna e il segnale con la guaina telata perché sono vintage voglio un pute io fare i pick up splittabili facendo i set vintage e in più dei pick up così delicati splittati onestamente suonano uno schifo perché i pick up che sono bene splittati sono gli humbucker quelli molto forti quindi ho evitato insomma di fare questa sciocchezza perché sarebbe stata una cosa completamente inutile quindi set fifties io l'ho montato sulla strato gas sulla e sulla strato gas sulla les Paul però potete montarlo su qualunque chitarra vi piaccia questi starebbero benissimo anche su una semi acustica per esempio su una 335 su una chitarra jazz perché vi ripeto il manico è molto caldo molto avvolgente e vi permette sicuramente di avere quel tipo di suono caldo compresso che vi permette di fare il jazz ok questi sono diciamo più o meno i pick up i primi puff fatti che fece set lover all'epoca quelli erano al nego 3 però io ho scelto l'al nego 5 sempre per il solito discorso sia per una questione economica per non far lievitare tanto il prezzo sia per una questione di disponibilità ma anche per una questione psicologica nel senso che quelli sono suoni molto particolari e non mi volevo troppo distaccare da un suono tradizionale ecco quindi ho deciso anche in questo caso di tenermi sull'al nego 5 ok sulla mia sg quest mano quanto è bella l'essere ci voglio mamma mia allora sulla mia sg invece ho montato il set di pick up hamburger sixties che si rifà al diciamo ai set di pick up puff dei primi anni 60 61 62 perché perché diciamo la verità è che i pick up si fifties cioè cinquantas sono sono veramente molto molto in realtà non è vero perché considerate che un pick up da stratocaster è cinque e mezzo sei quelli sono sette e mezzo non sono musci ecco questa è un'altra cosa che io volevo tantissimo evitare quello che poi risultassero troppo delicati non lo sono non lo sono assolutamente però in effetti volevo anche un set che fosse un pelino più spinto non senza esagerare ecco non volevo arrivare a 9 non volevo no a 9 diciamo ci può stare però non volevo arrivare a 10 ecco e quindi ho fatto il set sixties all'inizio diciamo degli anni sessanta si è iniziato a spingere un pelino di più sui sui pick up se quelli fifties sono 7.5 questi sono 8.5 sono un pelino pelino più spinti e sono pick up che io monterei e ho montato sulla mia sg sono secondo me i pick up adatti per angus young per fare gli sdc per l'hard rock e sono pick up fantastici perché ti danno giusto quel poco di spinta in più per essere più aggressivi per diciamo passare dal dal classicissimo pick up da jazz da country insomma da blues ad un pick up hamburger che va un pochettino di più verso l'hard rock verso una cosa un pelino più pesante questi sono proprio i pick up e nonostante tutto li volessi più forti comunque non dovevano incasinarsi che questi tu li vuoi suonare li vorresti suonare su un crunch bello croccante e c'hai giusto quel poco di spinta in più a livello timbrico non sono particolarmente diversi dal dal set sixties diciamo che ti aiutano ecco ti semplificano un pochettino il fatto del crunch ecco dell'assolone ma non c'è moltissima differenza a livello timbrico il manico diciamo è leggermente leggermente appena appena ma poco più più caldo c'è meno caldo scusatemi rispetto al set fifties e il ponte è leggermente più graffiante su questo set diciamo che si perde un pochettino l'effetto single coil anche se in realtà sei sempre più o meno là non è che sia completamente completamente diverso però diciamo sei più in territorio humbucker se vuoi e diciamo che si avvicinano un poco pochino pochino di più al diciamo al concetto di humbucker che ci abbiamo un pochettino tutti sono comunque entrambi uguali vi ripeto sono intorno agli 8 8.5 k entrambi escono anche questi con i cavi tradizionali gibson come vi ho detto prima sono cerate anche questi sono al nico 5 anche questi sono solo leggermente leggermente più forti e leggermente più moderni chiaramente dal 57 al 61 qualcosa era cambiato e questi qua sono adatti secondo me per un sg ma anche per una lespole per chi per esempio vuole fare cose un pelino più moderne ma sono i pick up secondo me da hard rock ma in realtà io ci ho suonato il tema di doom anche con i fifties quindi è tutto relativo perché comunque sono humbucker e comunque hanno un'uscita da humbucker insomma il timbro che è diverso rispetto ai set tradizionali che abbiamo adesso e soprattutto è diverso il modo di passare tra i pick up un'altra cosa un altro obiettivo che avevo io in mente è il fatto che quando tu suoni una gibson ok e suoni i pick up di una gibson il modo di passare tra un pick up all'altro è quello che ti fa sentire che tu stai suonando una gibson nel senso che in realtà non è il tu hai la sensazione che il centrale sulle gibson è proprio sui pick up gibson che il centrale non sia abbastanza diverso dal manico si è leggermente più fresco è sempre più o meno leggermente più fresco a parte rare occasioni in cui suona praticamente identico ma quello che diciamo fa quel poco di differenza o meglio quello che ti fa prevalere il manico già ve l'ho spiegato prima non è il volume del manico che è molto più alto ma è il timbro e quindi ti fa prevalere il calore del manico a quello del del ponte che invece è più più squillante un pochino più squillante e questa è una cosa che io volevo mantenere perché sono pick up puff stile puff quindi dovevano dare la stessa sensazione di un pick up gibson e questo lo fanno entrambi i set assolutamente era una cosa è un difetto voglio però è un difetto gibson cioè un difetto che quando tu cioè per me è un difetto perché vorrei avere più differenza di suono tra il manico e il centrale però è una cosa gibson è una cosa che tu quando essendo pick up diciamo ispirati a dei pick up gibson dovevano suonare con me cioè dovevano avere lo stesso comportamento anche su questa cosa di un pick up gibson ci tenevo proprio a questa cosa ok quindi questi sono questo è il set sixties su questa chitarra c'è il set sixties io lo consiglio sicuramente a chi ha un sg sono leggermente leggermente più spinti e leggermente meno caldi dei pick up dei pick up fifties che io ho montato sulla lesbol sono un pochino più da crunch questi un pochino più però ciò non toglie che pure i fifties se li se li spingi e che vuol dire che fa un discorso diverso devo farvelo sui set per telecaster perché come già vi ho detto non ho avuto ancora occasione di provarli ho fornito i miei le mie specifiche e per il set per telecaster io avevo un'idea molto precisa in mente nel senso che la telecaster in genere tu fai un set per telecaster anni 60 al nico 5 più versatile un pelino più versatile in realtà o fai un set anni 50 proprio aggressivo quello al nico 3 normalmente che molto settoriale io avendo la possibilità di fare un solo tipo di set per telecaster sono diciamo andato sul sul pensiero di un set più anni 60 anche se comunque la telecaster io non l'ho mai percepita particolarmente versatile come strumento o meglio c'aveva sempre sto caspito di difetto nel manico della telecaster ci va sempre un po in fronte a tutti e questa è una cosa che io non sopporto veramente della telecaster quindi la mia idea era quella di fare un set per telecaster che fosse molto versatile però che non fosse un set standard c'è un set come dire che non sape niente c'è che non sa di niente letteralmente e quindi è complicato per me pensare a un set perché un set tra telecaster tu fai quello al nico 3 anni 50 fai quello la diciamo al nico 5 più moderno e io volevo voglio vorrei essere proprio nella diciamo nel mezzo delle due cose vorrei un set versatile che non è che comunque suoni come un set da telecaster ma possibilmente che suoni bene anche al manico che non ti faccia sentire tanto la differenza tra il manico e il ponte anche se sinceramente sono molto molto tentato da tra dal tralasciare il set per telecaster e fare un set di john set un pick up da esquire perché vorrei incoraggiarvi a diciamo prendere in considerazione di convertire la vostra telecaster in esquire con un solo pick up non lo so che cosa farò sul sul set da telecaster sicuramente lo scoprirete ho fornito delle specifiche alla fabbrica che sta facendo questi pick up vedremo che cosa ne esce se mi piace il risultato poi vedrete uscire anche i miei set per telecaster devo su questo ancora ci devo studiare ancora devo come dire focalizzare cosa voglio fare perché sulla telecaster io sono molto 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 esigente nel senso diciamo una stratocaster una lespol che suona abbastanza bene diciamo una lespol che suona accettabilmente o una stratocaster che suona accettabilmente esiste la telecaster quando suona accettabilmente non si può sentire cioè o suona bene o suona male la telecaster è un pochino diverso capito quindi ci devo ci voglio mettere particolare concentrazione particolare impegno e particolare attenzione credetemi ne vale la pena perché quando suona bene una telecaster è finire cioè ok quindi questi sono i set per Moody Fraser Signature che troverete su geshamusic.it spero che vi ispirino io vi assicuro che la bellezza di questi set a parole non sapò spiegare dovete suonarli dovete suonarli dovete provarli e spero che questi set vi piacciano e soprattutto spero che condividiate la vostra c'è il mio entusiasmo nell'aver realizzato dei pick up che per me tirano fuori quello che dovrebbe uscire da questi strumenti quindi la stratocaster la lispol lsg e spero in futuro o a breve non lo so ancora con la telecaster io per oggi vi saluto ciao a you